Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video su Angela Biotrucco. Oggi voglio parlarvi e recensirvi questo shampoo solido della saponaria. Quello che ho comprato e testato io è nella versione rinforzante lenitivo. Vi è anche un'altra versione antiforfora e purificante. Lo si trova all'interno di questa scatolina in cartone, avvolto in una pellicola trasparente biodegradabile. Io ho tolto la pellicola trasparente per poterlo iniziare ad utilizzare. Il panetto di shampoo è davvero piccolissimo, 50 grammi, però l'apparenza inganna. Dura veramente tanto ed è l'equivalente di uno shampoo liquido di 300 ml. Questo è un shampoo solido ottenuto per compattazione di ingredienti e non per saponificazione. Se volete sapere qual è la differenza andate a vedere questo video nel quale ho approfondito l'argomento. Per farla breve ha un pH molto simile a quello dei capelli, quindi è perfettamente compatibile. Ha una profumazione naturale che è molto dolce e fruttata, permane sui capelli anche dopo l'asciugatura. È un prodotto due in uno, cioè in esso oltre al tensioattivo sodium cocosulfate sono contenute delle sostanze condizionanti, tra cui al secondo posto nell'inci è presente il distearoil etil timonium chloride. Serve per rendere i capelli morbidi e facilmente districabili. Inoltre sono presenti nell'inci diverse sostanze attive, quali il burro di karité, il burro di cacao, l'estratto di cicoria, l'estratto di amamelis, l'estratto di altea, calendula, l'inulina, il fruttosio, che rendono i capelli super morbidi. È un prodotto che mi ha fatto una buona impressione fin dal primo utilizzo. È veramente molto facile da utilizzare immediato e occupa pochissimo spazio. Basta strofinarlo tra le mani e già si ottiene una schiuma molto corposa, abbondante. Purtroppo è un prodotto che devo mettere da parte perché alla mia cute non piace particolarmente, probabilmente per qualche attivo contenuto nella formulazione o per come è strutturata la formulazione stessa. Ho un cuello capelluto un po' capriccioso. E infatti, fin dal primo utilizzo, ho notato che dopo l'asciugatura trascorse due o tre ore, sul cuello capelluto erano presenti delle desquamazioni forfora. Immediatamente ho pensato che potesse essere un episodio isolato dovuto non allo shampoo, ma a dei fattori esterni, come ad esempio il cambio di stagione, i capelli che ne risentono, il corpo che si sente un po' in subbuglio. Però utilizzandolo altre volte, purtroppo mi dava sempre la stessa reazione. Non so se possa provocare la medesima reazione in altri soggetti con cui è capelluto particolarmente sensibile come il mio. Per quello che riguarda invece la morbidezza e l'intensità di lavaggio di questo prodotto, io do un ottimo voto perché è veramente molto lavante, molto sgrassante, ma non è aggressivo. Lascia i capelli ultramorbidi, sofficissimi. Quindi, se applicate un balsamo dopo l'utilizzo di questo prodotto, è possibile che vi ritroviate i capelli molto pesanti, eccessivamente nutriti, eccessivamente idratati. Questa è stata la mia esperienza in merito. Ho provato a utilizzare un balsamo dopo il suo utilizzo. E i capelli erano pesanti, era un sovrappiù. Come tutti i prodotti la saponaria, questo shampoo è naturale, biocertificato, con ingredienti provenienti da agricoltura biologica. Purtroppo, data la reazione che ho avuto, credo proprio che è un prodotto che metterò da parte e utilizzerò soltanto per lavare la pelle del corpo, non più per i capelli, dato che ci tengo a mantenere un cuoio capelluto sano e tengo sotto controllo attivamente queste situazioni di forfora, di squamazione, prurito, secchezza del cuoio capelluto. Se il cuoio capelluto presenta determinati fastidi, determinati problematiche, sappiate che la capigliatura ne risentirà nel tempo. Quindi è bene curare il cuoio capelluto prima di curare i capelli. Grazie per aver guardato questo video, scrivetemi nei commenti qui sotto cosa ne pensate riguardo questo prodotto, se la mia recensione vi ha incuriosito, se lo avete già provato, se avete delle domande o dei dubbi in merito. Se non siete ancora iscritti al canale, fatelo subito e attivate la campanella da smartphone per ricevere le notifiche sui prossimi nuovi video che metterò. Ci vediamo alla prossima su Angela Biotrucco. Ciao!